A ottobre scade anche i termini per il tesseramento. Sì, grazie, non stavo dimenticando. Stiamo facendo delle attività, abbiamo fatto degli azebi in piazza, abbiamo fatto un po' di promozione a questo particolare momento importante per il partito, perché il tesseramento dà quello stato di salute che gode un movimento politico o un partito. Quindi il 31 ottobre scadono i termini perché si andrà incontro a una stagione congressuale che vedrà l'Assemblea nazionale per eleggere il presidente, ma prima dell'Assemblea nazionale i coordinamenti provinciali dovranno mettere in atto il congresso provinciale per scegliere i delegati nazionali. E quindi a cascata si spera anche di fare un congresso comunale, quindi anche qui a Chioggia, quando sarà ora, e democraticamente scegliere chi sarà il coordinatore e i membri del direttivo. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.